allora presentazione del canale giusti outdoor nasce perché voglio condividere un pochino le mie esperienze outdoor io adoro stare fuori adoro l'aria aperta sette anni fa mi hanno proposto di fare una camminata sull'altopiano del montasio e sono rimasta completamente folgorata sulla via di damasco adoro camminare adori trekking adoro il bushcraft adoro stare fuori mi piace davvero tutto e quello che si prefigge a questo canale è di condividere condividere la mia esperienza condividere le vostre esperienze creare una comunità di persone che camminano sostanzialmente che camminano perché camminare non è solo camminare non è semplicemente non è semplicemente uscire di casa o farlo da quando si ha poco meno di un anno o poco più di un anno camminare a un viaggio interiore camminare un'esperienza camminare è una prova camminare qualcosa che ti mette a stretto contatto con te con le tue paure con le tue gioie con con tanti lati di te quindi io mi prefiggo di portare un po di esperienza e di portare un po di avventure e di portare un po di conoscenza nel disperato tentativo di far camminare anche solo una persona in più su questa terra e se riuscirò ad appassionare qualcuno ben venga andrai anche tu a camminare e anche tu scoprirai che camminare non è solo camminare ma è molto molto di più quindi giusti outdoor nasce così dalla passione per camminare perché bisogna camminare giusti soprattutto quindi tratteremo abbigliamento tecnico tratteremo attrezzatura e tratteremo esperienze e tutto ciò lo faremo magari insieme ciao ed eccomi qua in fase di montaggio del mio primo video che era stato pensato in tutt'altro modo ma alla fine ho dovuto rinunciare a farlo in piedi ciao giusti